Saluta un po' tutti, intanto i tifosi della Roma. Allora, intanto vi saluto dal salutatore, il saluto è che qui non potevi mancare il grandissimo Piero Tauri. Piero, basta Piero. Ecco, Piero, per gli amici e per tutti i fan. Allora Piero, qui dal testaccio facciamo un saluto a tutti i miei fan. Ma certo, un abbraccio a tutti, a tutti i tifosi della Roma, anche a magari a quelli in cui sto a dipante. Non è un problema, l'importante è che siano tifosi della Roma. Per cui, voglio saldare anche Teleradio Stereo. Ecco, saluto tutti i fan Teleradio Stereo. E che sono veramente tanti e speriamo che ci si possa rivedere in altre occasioni del genere. Ecco, io ti ringrazio e mandiamo un saluto speciale direttamente dalla piazza più bella del mondo, della Roma, del testaccio. Dal cuore di Roma. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao, ciao.